salve a tutti io sono paolo quadrino per la rubrica il punto della rivista orizzonte scuola oggi ho il piacere di avere come ospiti due insegnanti dell'istituto comprensivo di isili in provincia sud sardegna e simona ilot e silvia casaddio che saluto ciao buongiorno ecco con loro cercheremo di vedere insieme un progetto che hanno avviato in questo anno scolastico 2022 23 già dalle prime classi della scuola primaria un progetto che vede l'utilizzo dei risorse strumenti digitali con l'integrazione di anche metodologie che accompagnano e affiancano l'utilizzo di questi strumenti ma insomma ce ne parleranno direttamente loro ecco per l'esattezza simona inizio da te che cos'è smart kids allora smart kids è un progetto è un progetto sia sulle nuove tecnologie e l'uso delle tecnologie a scuola sia un progetto di continuità perché perché noi abbiamo scelto questa prima della scuola primaria abbiamo deciso di seguire il loro percorso per otto anni quindi tutti i cinque anni della scuola primaria più i tre anni della scuola secondaria di primo grado della scuola media perché ci siamo posti questo obiettivo perché se è vero che con gli insegnanti della scuola media spesso ci confrontiamo e parliamo di obiettivi parliamo di programmi raramente parliamo di metodologie e ci capita anzi spesso di vedere che questi bambini c'è proprio una cesura tra la quinta elementare e la prima media qualcosa che a volte sbagliamo anche noi quando gli diciamo adesso cambierà tutto vedrete in prima media invece in realtà quello che vorremmo riuscire a fare è dare degli strumenti a questi bambini già da così piccolini che poi piano piano crescendo si ritroveranno nella scuola media infatti questo progetto non solo coinvolge gli insegnanti della scuola primaria di questa classe ma incomincia a coinvolgere anche quelli che saranno i loro insegnanti nella scuola media in modo che quando arriveranno gli insegnanti saranno pronti a riceverli tra virgolette cioè avranno loro le stesse competenze che stiamo mettendo in campo noi e si troveranno dei bambini dei ragazzini che già sanno fare tante cose che sono pronti a continuare in questo percorso senza nessun tipo di interruzione. Quindi un'esperienza come si dice in verticale giusto? Esattamente sì un'esperienza in verticale. Silvia in realtà voi siete già esperte e competenti per quanto riguarda l'uso del digitale. Ma in generale di quale risorse e strumenti disponete in questa classe? Allora noi già negli anni passati abbiamo sentito l'esigenza di fornire i nostri plessi dei Chromebook perché grazie a questo noi abbiamo potuto affrontare anche l'emergenza che ci chiedeva di fare della didattica online con serenità. Quindi noi utilizziamo i Chromebook dove ci sono tantissime applicazioni che permettono ai bambini di sperimentare i programmi di videoscrittura, creare delle mappe che a loro servono per poter apprendere in modo più completo diciamo l'angomento che devono ad esempio trattare. Disponiamo anche di LIM naturalmente il classico vecchio strumento che ha sostituito le tradizionali lavagne ma che in questo momento diventa uno strumento dimostrativo con cui poi i bambini possono invece sperimentare direttamente con il loro Chromebook. Disponiamo di stampante 3D, di microscopi digitali, tutti strumenti che consentano ai bambini di fare una scuola attiva in modo da imparare facendo. come di solito succede anche alla scuola dell'infanzia. Tutti questi strumenti e queste metodologie che utilizzano queste nuove tecniche non escludono comunque le vecchie, i vecchi strumenti che sono i libri, che sono i quaderni, ma si insegna ai bambini a utilizzare ciò che troveranno nel loro futuro perché adesso vengono utilizzati soprattutto per passare il tempo, quindi giocando, vedendo video, questi TikTok. invece noi stiamo cercando di insegnare ad utilizzarli per apprendere. Sono strumenti che aiutano nell'apprendimento i bambini della nuova generazione. Non possiamo non insegnare questo perché nel nostro passato non c'erano, ma nel loro futuro invece prepareranno. Quindi questi sono gli strumenti più o meno di cui noi siamo forniti. Simona, se vuoi aggiungere qualcosa che io magari non ho citato. Ne approfitto, scusa io, per dirvi una cosa. Intanto stiamo vedendo il vostro blog SmartKids nella quale documentate anche all'esterno e quindi anche alle famiglie le attività che svolgete. Però una cosa interessante era appunto quella, cioè in passato anche i detrattori di Relime dicevano non cambia l'asset della classe, c'è sempre la spiegazione frontale. Invece lì vedevo anche un lavoro collaborativo e cooperativo nel quale gli stessi studenti piccoli lavorano sul digitale. Giusto Simona? Sì, sì. I bambini possono lavorare alla Lim, possono lavorare sul loro Chromebook e vedere le stesse cose. Vedi, qua stanno facendo un semplice giochino di memory insieme, mentre loro giocano alla Lim, gli altri bambini ce l'hanno sul loro Chromebook a piccoli gruppi, quindi possono o osservare i compagni che giocano oppure possono sfilarsi loro stessi. Ma se vai più su, vedi per esempio quello che diceva Silvia, sui loro banchi c'è il libro, il libro di inglese, sulla Lim c'è il libro di inglese in digitale, ma non vedi che loro stessi a fianco hanno il Chromebook con l'esercizio, lo stesso esercizio, non abbiamo fatto la foto, forse se entri dentro l'articolo si vede, lo stesso esercizio che loro hanno sul libro cartaceo ce l'hanno sul Chromebook. Quindi cosa fanno? Imparano già da adesso a svolgere un esercizio autocorrettivo, a capire se hanno fatto bene o male e poi quando hanno capito che è giusto lo trasferiscono sul libro che la maestra controlla. Quindi c'è sempre il classico esercizio fatto sul libro, però con l'ausilio del digitale questo permette a loro di farlo nei tempi più congeniali, quindi ci sono bambini più veloci, bambini più lenti, quelli che lo vogliono fare tante volte, quelli che dopo una volta si sono già stancati e vogliono fare un'altra cosa. Imparando a muoversi in autonomia dentro la classroom, loro possono, non sono per forza dipendenti dalle nostre istruzioni. Questa è una delle cose che vogliamo realizzare col tempo e che loro a casa, quando avranno anche dei compiti a casa, vedi qua stanno usando il libro digitale di matematica per esempio, quando diventeranno indipendenti e riusciranno a entrare da soli su classroom, a trovare la materia, a trovare l'attività, poi loro si faranno i compiti senza dover tra virgolette disturbare un adulto, che ovviamente dovrà sempre essere lì perché i bambini vanno supervisionati sempre, ancora di più quando utilizzano questo tipo di tecnologie, però loro saranno completamente autonomi nello svolgimento delle attività e potranno anche lavorare insieme in classroom, quindi anche attività collaborative, attività personali, potranno inventarsi e mostrarci bambini più grandi, perché noi non è che facciamo queste cose solo in prima elementare, questo è il progetto, è un progetto particolare in cui vogliamo documentare bene, ma noi di queste cose le facciamo in tutte le classi e bambini più grandi producono i loro lavori e ce li presentano e ce li mozzano e sono lavori personali e sono fatti attraverso questi strumenti. Perfetto, Silvia, quindi si tratta anche di metodologie innovative che state introducendo, ma soprattutto anche di una interdisciplinarità che mettete in atto in maniera molto importante, nella primaria è più così rispetto a dopo le secondarie di primo e secondo grado, però mi sembra che è attuata in maniera perfetta questo concetto. Sì, perché anche l'utilizzo di questi strumenti ci fa capire come non esistono apprendimenti divisi per scomparti, le discipline a sé stanti, matematica, cioè non esistono, i saperi sono formati da diverse conoscenze. Allora, quindi questo costringe anche noi docenti a confrontarci, a vedere quali sono gli obiettivi che devi raggiungere tu con la tua disciplina e quali sono quelli simili che devo raggiungere io con la mia. Quindi organizziamo un'attività in cui i bambini apprendano contemporaneamente e quindi raggiungono gli obiettivi contemporaneamente con un'unica attività. Quindi costringe i docenti a confrontarsi, a essere proprio, a lavorare insieme quello che deve essere. Allora, l'insegnante diventa il regista. Come c'è sempre stato detto, noi strutturiamo l'ambiente d'apprendimento. I bambini pensano di essere liberi scegliendo in autonomia, ma noi abbiamo già deciso cosa ai bambini, cioè non deciso, li circondiamo delle attrezzature, degli strumenti, ma sappiamo noi dove stanno andando a finire. Loro pensano di essere libri, stanno scegliendo, però alla fine siamo noi che abbiamo organizzato l'ambiente di apprendimento e questo necessita di un'organizzazione in continuità. Da soli non si può fare niente. Quindi noi stiamo lavorando con Simona perché comunque ci ritroviamo ad avere la stessa linea di pensiero, però confrontandoci anche con gli altri docenti del plesso, alla fine ci rendiamo conto che pensiamo tutti nello stesso modo. A volte è solo questione di non aver fatto l'esperienza di lavorare in questo modo, perché poi ci si rende conto che anche il nostro lavoro è più semplice, cioè è tutto più leggero, la lezione frontale che costringeva il bambino a stare attento a ciò che io stavo dicendo, cioè necessita di una vigilanza, di un richiamo continuo, sono faticose. Il bambino mentre gioca utilizza questi dispositivi, questi strumenti, si sta divertendo, ma nello stesso momento sta apprendendo, però con serenità, senza essere costretto anche a stare tanto seduto nel banco, perché c'è anche il sano vecchio gioco in cui comunque noi proviamo utilizzando il nostro corpo ciò che poi magari proponiamo anche nel dispositivo. Cioè diciamo che le metodologie si sono raddoppiate, triplicate, le vecchie non sono state abbandonate. Bene, questa idea di integrazione mi sembra vincente perché in effetti aiuta molto nel percorso di apprendimento e di insegnamento. Stiamo cercando di dire prima, Silvia, che lavorando insieme, quest'anno abbiamo un'ora insieme, ci rendiamo conto, magari mentre lei sta facendo un'attività di matematica, io mi infilo con l'inglese, mentre io sto facendo l'inglese, lei si infila con la matematica o con le scienze, o tiriamo fuori italiano, anche se tra virgolette non siamo docenti d'italiano, ci rendiamo conto come tutto si può intrecciare, tutto si può richiamare, no? E quindi non siamo lì con il nostro obiettivo fisso, no? Noi stesse ci rendiamo conto, lavorando con i bambini, di come possiamo spaziare, di dove possiamo allargarci un po'. Magnifico, ultime due domande. La prima è Simona. Simona, quanta però competenza e preparazione sul digitale c'è da parte degli insegnanti? Noi in Orizzonte Scuola ci rivolgiamo soprattutto a loro. Ci deve essere una buona preparazione, una buona competenza in uso di queste tecnologie o comunque pensi che ormai siano abbastanza facili e semplici da utilizzare, non dico per chiunque, però insomma per gli insegnanti certamente. È chiaro che ci deve essere una buona preparazione, ok? Questo è... però è anche vero che si può cominciare a piccoli passi. Noi in primaria facciamo al massimo tre ore di uso di dispositivo alla settimana, quindi stiamo facendo chissà quale esperienza immersiva nel no. Però diciamo che chi volesse cominciare si può anche organizzare una piccola attività alla settimana che si prepara a casa. Del resto con la pandemia abbiamo imparato tutti, nel nostro istituto sappiamo usare tutti la classroom per dirti, no? E anche semplicemente infilare in classroom un'attività e sapere che i bambini comunque sanno usare classroom perché ci sono insegnanti magari un po' più esperte che hanno insegnato ai bambini a fare quello. Quindi tu docente che arrivi nel nostro istituto e che non sei estremamente esperto però hai davanti già dei bambini che ti sanno dire, cioè quando tu gli dici vai su classroom, cercati la materia, vedi che ti ho messo un esercizio per dirti, loro ci sanno andare. Allora, su quello Simone non ha dubbi, però ti capita per esempio di dare una mano o supportare qualche collega che ti chiede magari, eh ma qui come si fa? Ovviamente, tutti i giorni. Tu sei animatrice digitale, non mi ricordo. Sì, 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 io sono animatrice digitale e quindi a me mi inseguono negli ambiti, capito? Però è normale per me, vabbè, a parte che siamo insegnati, quindi siamo sempre insegnando, una cosa proprio, un rapportamento, un problema. Però ecco, ci sono di queste situazioni nelle quali bisogna... Certo, ci sono sempre e a me fa molto piacere quando un insegnante viene e mi dice guarda vorrei provarci, dammi una mano, cosa devo fare, ma anche Silvia, cioè piano piano ci stiamo allargando, nel senso stiamo diventando i tutor dei nuovi insegnanti che arrivano, chiunque voglia imparare con noi impara qualcosina e poi certo ci vuole tempo, ci vuole passione, ci vuole convinzione. Senti, ti capita anche per caso con le famiglie? Sì, anche con le famiglie. Diciamo che noi abbiamo un dialogo abbastanza aperto con le famiglie, soprattutto adesso con questa nuova classe che abbiamo deciso proprio di... abbiamo deciso con questa classe anche di far vedere al di fuori cosa si fa, perché come ti dicevo non lo facciamo solo con loro, ma con questa classe abbiamo proprio deciso di dare un senso, di dare una forma anche esterna a quello che facciamo e non sempre le famiglie, non dico che non capiscono, però possono avere delle resistenze, possono avere dei dubbi legittimi, anche perché questi sono bambini piccolini, dice ma come un bambino di sei anni lo metti già davanti a uno schermo. E qual è la reazione? La reazione può essere... di solito è una reazione abbastanza positiva, poi se ci sono noi siamo comunque sempre disponibili per qualsiasi dubbio, domanda, resistenza, ne discutiamo e possiamo... comunque siamo aperti anche ai suggerimenti che vengono dall'esterno, ecco non per forza ci chiudiamo, anzi questo è il modo per aprirci fuori e per diventare ancora più trasparenti. Anche perché io per esempio ormai non uso quasi più il quaderno, per dirti, no? E quindi questi bambini sembra che a casa non riportino niente, invece se un genitore entra nella classroom, o entra nel blog, no? Vede anche quello che facciamo dentro la classe, ancora di più che con un quaderno. Mi sembra molto importante questa documentazione. E in ultima battuta Silvia, a questo momento, quindi dopo qualche mese dall'avvio del progetto, già avete constatato dei cambiamenti, delle ricadute particolari, positive o negative, non so, nella vostra attività didattica? Allora, positive perché comunque adesso i bambini sanno accendere il Chromebook, entrare, come diceva Simona, nella classroom, dicono, ma ho visto i compiti, anche se non sono magari stati avvisati, e ho giocato e ho imparato quello che tu hai messo, ho imparato a fare, quindi esercizi di matematica. Quindi loro entrano curiosi di trovare anche qualcosa di nuovo e qualcosa di leggero da fare. Poi sono molto interessati perché comunque proponiamo anche diverse attività in cui vedono anche i loro lavori animarsi. Adesso da poco appunto abbiamo iniziato con il coding e loro adesso iniziano a costruire dei percorsi che poi fanno parte appunto degli obiettivi da raggiungere per i bambini di prima. Però vedere che un loro lavoro diventa qualcosa di animato, non so se si conosce, ad esempio, si possono nominare alcune applicazioni. Sì, sì, certo. Scratch Junior. Certo, sì. Sono delle applicazioni davvero fantastiche, in cui loro sono stupiti nel vedere che il personaggio si muove a seconda del comando che loro gli hanno comunque dato. Quindi sì, vediamo molta curiosità che è quella che serve per apprendere. Allora, se il bambino non si dimostra curioso, è come per l'insegnante. Allora, lei prima diceva, ci vogliono competenze, ci vuole sicuramente molta predisposizione a volersi aggiornare e questi tipi di strumenti comunque incuriosiscono tantissimo perché anche noi stessi, noi adulti ci stupiamo di quello che comunque adesso si riesce a fare con questi dispositivi. Sì, i bambini sono molto curiosi e quando arrivano a scuola dicono è però dura troppo poco, cioè nel senso vorrei stare ancora e secondo me per un insegnante questo è il complimento migliore. Sicuramente. Sicuramente però mi sembra, da come capisco, che voi abbiate intrapreso un percorso vincente nel senso che mettete in prima battuta la metodologia, mi sembra, e poi a seguire gli strumenti, in questo caso digitali o analogici e quindi c'è il problem solving, c'è gamification, c'è apprendimento collaborativo, c'è anche classe capovolta in qualche modo. Quindi ecco, si parte da una metodologia e da quell'obiettivo per poi utilizzare quello che si ha a disposizione. Può essere anche una lavagna di ardese o un libro di carta, non è quello fondamentale. Mi sembra perlomeno questo da quello che capisco. Non si esclude niente, è questo. Esattamente. Non stiamo creando un ambiente che esclude i vecchi strumenti, anzi, anzi. Beh, anche però di noi perché ho visto le stampanti 3D che vengono utilizzate già dalla prima classe. I bambini hanno scritto delle parole e hanno visto le loro parole lì stampate e quindi la curiosità. E quindi c'è la voglia anche di allenarsi per poterla scrivere bene e per poi poterla vedere. Abbiamo chiesto, esatto, per adesso hanno scritto in stampato e poi chiederemo invece il corsivo minuscolo, no? Per farlo più carino. Esatto. Quindi in questo senso gli stiamo anche motivando. Sai che adesso il corsivo è uno di quelle, come dire, è un argomento di dibattito un po'. Ma i bambini non lo amano tanto. Quindi magari anche trovare piccole strategie come queste per farti capire che comunque anche il corsivo ha la sua praticità, la sua bellezza, la sua importanza. Questa è stata un'attività e è un'attività che ci permette di fare questo. E noi praticamente usiamo questi strumenti per togliere fuori, no? Togliere fuori da dentro, la stampante 3D toglie fuori dal computer quello che ho creato. e magari il, che ne so, il microscopio mette dentro al dispositivo quello che io non posso vedere diversamente. Quindi in un certo senso, quando si parla di allargare un po' la realtà, di aumentare la realtà, a questo ci stanno servendo i dispositivi che abbiamo. Magnifico. Beh, innanzitutto complimenti per tutta l'attività che fate e fortunati i vostri alunni. L'appuntamento allora è tra cinque anni, così ci dite com'è andata a finire. Esatto, e poi tra otto. E poi tra otto. Va bene, grazie Simona, grazie Silvia. Grazie Paolo. E buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao.